Resident Evil Biohazard Non c'è nella zona con i zombie Salve a tutti ragazzi, qui è Morkser E tutti salve ragazzi, siamo su Resident Evil 7 Però ci manca qualcosa Ci manca qualcosa perchè la web come sta giù Dove se il coltello E quindi? E quindi non mi esce la mano E quindi? Quindi dobbiamo fare tutto la tavola Non c'è in destrabbiccia Ciao ragazzi Bene tutti ragazzi qui è Morkser E good satel ragazzi, siamo ancora su Resident Evil 7 Con una speciale Con una speciale versione Che sentite tra poco Hai venuto in Whats? Sì, io lo sento La cosa speciale è la nostra Nuova voce di Morkser che abbiamo acquistato su Amazon E cominciamo la nostra avventura Dopo aver ucciso quella maledetta E non do niente Non sento Ma che? Eh Ma qua mi ricordo Qua ti ricordi? Che stavano i millepiedi che Nel millepiedi Nel millepiedi Nel millepiedi che si chiamano? Si ma ragazzi Si Qua mi ricordi? Eh qua ti ricordi pure Ragazzi qua Ah Dobbiamo ucciso quella lì Questa è già io Ecco vedi perché Dopo un sacco di tempo Non si ricorda che dovevamo fare Ah Sì Doveva bravo Vedi se hai la chiave Vedete un po' che c'hai Ok Ok quindi sai che devi fare? Mmm no no Questo ce l'abbiamo letto Vai giù Vai giù Vai giù Dobbiamo cercare il siero Dice col top Giusto? Eh va qua Allora vai diritto Mi ricordo dove eravamo rimasti Vai diritto qua No 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 Qua Torno indietro Questa è per Cosa c'è la signora? Vai qua bravo vai qua Cosa c'è la signora? Sai che cosa devi fare? Beh Sai cosa devi fare? Devi prendersi la ciafiamma Amo che se ne va la signora E devi andare sulla porta qui Vedi il diritto sulla porta Sulla destra Eh ma signora se ne va allora La signora se ne va Perché fa il giro che Del corridore Perché ci stanno le api Anzi fai una cosa Vedi se se ne va Va il più vicino Gli abbiamo mandato diritto Che c'è il ponte Dobbiamo mettere la manovella Va 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 Fai una cosa 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 Allora a questo punto Faccio un giro No 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 Hai per forza qua che si avvicina la porta Un giro ti trovi sempre la Davanti Allora la signora Mostra a destra La signora sta lì sulla sinistra No a destra No a destra Sta lì Che fa un giro io Ti mostro vieno un'altra cosa E io devo andare a destra Tu devi andare a destra La porta che vede la prima Con calma Vediamo Marguerite Con la lanterna che rompe un po' la minchia Questa sagga la finiremo a Pasqua ragazzi Con l'ovetto La colomba Giusto Nella colombia Alzati 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 perché sta il nido qui Io mi ricordo Nel nido che devi scappare subito Non ti conviene attaccarle Alzati Vai subito qui Vai subito lì Vai diritto Vai diritto Vai diritto Uccidele Uccidele queste qua Adesso No qua non serve a niente Devi andare lì dove No so ma voglio preparare Polaresse 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 Un tipo di farfalla Della nostra zona Una razza speciale e rara Vibra Le prime paure si iniziano a sentire Come si usa il medico? Ah no l'ho cambiato Ho messo questo tasto qui Vai Prendi il lancia piano Aspetta 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 Ho fatto un po' Bruciare il pensiero dove andare Non muro dopo riesci uscire no Aspetta rimani fermo Devi andare lì dove Andare Dritto Eh fammarci del suo Gesù Va 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 C'è il sanguro Va il sanguro Ma va diritto Non ti preoccupare queste qua piccole Non sei Ma tu pure sei rimanendo Metti subito la novella Se no ci arrivi da un pazzo no Se succedono sempre Perché la signora le fa E' un po' 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 Ero combustibile si trova si trova coltellino coltellino affilato ma nessuno ho il burpo niente niente ci prova morx ci prova non riesce a coltellino niente sta tagliando l'aria taglia l'aria ci prova niente niente ok ok uccidiamo le regine uccidiamo le regine ok si ci provano lancia fiamme vai subito scorri 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 è che la regina ci stava dito ma già ci stai sicuro è che su quella cosa ecco che il combustibile finisce è una dannazione che è un abissime di ingone di merda ragazzi se avete notato la voce di morse commentate in questo momento sto scrivendo dopo che apriamo il ponte arrivano le notizie bravo 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 però il problema è che non abbiamo più combustibile vai ritte ce l'abbiamo fatta non so cosa ecco soluzione medica ci serve il tasse più comodo adesso col controllo si abbassa hai visto più meno più sempre più meglio è più molto più meglio se te fai una corsa fate una corsa perché c'è che deve che cosa hai preso regale oh devi fare una corsa è meglio perché risparmi il combustibile no 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 fatti una corsa senta a me no adesso la città non facci tu oh picci cosa farei ma chissà com'è vai 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 fai la stessa azione di prima vai diritto vai diritto la che devi andare vai vai diritto no non mi stai sentito vai diritto perchè se non viene e che era bene il tempo se ne va e il passato non è vero si poteva e ci vado a cercare il costellino e siamo come si chiama ok afferro questa azione un po' salienti poi qui troveremo ti ricordi la porta che si va chiusa adesso si apre perché è la porta del corvo 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 si adesso la possiamo aprire che sta lì su è facile per adesso ok si prova la nonna si prova la nonna margaret ok andiamo giù filmato shock che cazzo ha mi sembra la lantea vediamo un po' di dolore aspetta si adesso si adesso devi provarlo uccidere però si deve prendere le api che ti butta eh però secondo me se ne butta altro dei primi che vedi non prendi le giardine non prendi le giardine stai diventando proprio una quello che colpisce anche lei comunque ma guarda sta figlia di puttani che margaret ci prova dove è andato? non si fa mio caro dove è andato? lei la mente è un po' strana dov'è? ben giardino ci saluti sulle spalle come sei per morire di culo io? morirai in questo buco e vedrai che ti piacerà ragazzi facciamo un po' di team così forza speriamo che ce la facciamo però l'abbiamo pure fucita ok qui scende lei ok ok ce la facciamo ci provarò fratta verso il corpo vabbè rimane sempre vai scappa meglio che scappa la mia luce non è luce ok senza la luce non ha il potere delle avi credo ok la chiave è questa e abbiamo aperto questa porta speriamo che non non si ritorna quella maledetta di margaret oh ok vediamo un checkpoint ecco il nostro morg si chiude sempre per sicurezza non c'è paura mi sembra ancora da mano spillata il cadavere di un neonato mi manda nel stiro della serie incredibile forse ci siamo ma spera vedi bene prende qualcosa qui ecco una mazza da baseball qui non c'è niente di nuovo ok telefono telefono questa è la nostra per me per me ah ZO 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 105 è qui ragazzi con noi ok ci sono via Manta ok tra poco ragazzi dobbiamo dobbiamo Che succede, amico? Ragazzi, se vi consiglio queste RAM DDR4 lo pagate di 5 euro? 5 o 20? 25? Ok, dobbiamo andare alla roulotte, ci ha detto Zoe, hai capito? La roulotte dov'è? Su Campus Aura. Ragazzi, questa saga ci sta piacendo molto. Però lui non si ricorda più che gioco era. Una picotta Voodoo! Ok, qui abbiamo ricchezze. Non lo so, non lo butta questa cosa. Ok, abbiamo un diario. Ok, possiamo andare. Un genere di utile. Eh, il cazzo, il combustibile. Ok, fai un ogni tanto una combinazione. Ok, basso, ne abbiamo 120, quindi possiamo farcela perché abbiamo... Il fucile non ce l'abbiamo. Che cos'è qui? C'è un'ombra. Ok, abbiamo una porta e una lanterna. Però... dobbiamo insercivoli... Io ho arrivato a capire che ci serve. Guarda bene la lanterna. Hai visto? È tipo una bilancia, quindi ci serve un'altra lanterna. E la lanterna chi ce l'ha? Chi è scappata? Chi è scappata senza la luce che è andata sotto la fognatura? Io non giovo con la. E deve andarsi perché... Eh, mo' succede delle belle cose per Morks. prossimamente bestemmie, paura, orrore. Ma dove sto? Devi scendere. Devi scendere. Ma dove sta? Devi scendere qui. Dove sta? Devi scendere. Ragazzi, il gioco è così, devi andare lì per forza perché... Ti do una soluzione per andare più... Il gioco deve andare più breve, più pochi video. No, no, no. Eh, sì, lo so, no, no, no. Inche hai fatto buco. Eh, hai scavato perché sono impossessati questi burger. Eh, devi andare lì? No, 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 no. Non c'è niente quando ti preoccupare. Il gioco così deve andare, non ti preoccupare. Che giallo. Devi andare lì. La luce ce l'hai? Ciao. Che razza di... che razza... Che razza... Era lei? Maggiacita. Eh... Non subito. Vabbè, ti puoi aspettare di tutto, non posso dire. Non vado, non c'è fuci. Ok, un'altra scala. l'infinita. La realità. Ok, non ce la fa più. Ah! siamo ritornati nel giardino che sopra c'è la roulotte. Giusto? Qui? Quindi, noi dovevamo andar lì. Vai. No, ma sarà? Li ributtiamo. Ah, fa capire, con lanciafiammo. Buon di forza. Lanciafiammo. Lanciafiammo? Ok, ci siamo. Ci siamo. Eh, cos'è qui? Buon andavo a 3 mg, il ringolo esagerato è una grande potenza. Ci credete, con una 4 magnum. Ragazzi, è la rig, proprio. Oh, no. Ok, salviamo. Salvataggi in corso, non spegnete il computer. Se se ne vado a correndo, sul cazzo, tosciti. Per chi non lo sa, silenzio, giusto. Tu non lo sai? No. Ok. Quindi abbiamo una pistola, il gioco è questo, è silenzio. Abbiamo questa qua, che mi ricordo, il back of the sin devil, la pistola di Jill Walletard. Continuiamo, quindi? Andiamo nel giardino, di fra... E... Ok, una foto di un cesso, e questa sarà qualche ragazzina di adesso, che si fa dei selfie nel gabinetto. Ok, panico, panico, la porta non si aprirà più. Mamma mia, disturbi allo stomaco. Dove andare al bagno. andiamo al bagno. Non lo faccio. Non ho capito bene. Ragazzi, voglio minimo 60 like per la voce di Morxel. Giusto? E non vale, però sto prendendo tutto di tutto di tutto, ma non è duro, sto prendendo tutto di tutto. Alla fine, la voce di Morxel è duro. Aspetta, fammi fare. Più forte. Posso fare un cazzo, col cadro, benedetta bastarda, l'orcia? Troppo, lo dito di tutto. Che cazzo? Tu puoi già fare? Ragazzi, la traduzione sarebbe imbestata, che sarebbe... No, imbestata in italiano. È imbestata. Infestata. Infestata. Vado giù? Yes. Che arma mi consigli? Non so se vengo io, perché mi si... Si muore. No, la canzone è quella di Capitano Olvido, si muore, un'altra cosa, si muore. Posso alzarmi? Devo fare una... Se hai il coltello, puoi rompere anche questa scala, vediamo se... È emulizione miscita. No, 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 va dove? No, devo... Devo sistemare un po' il cappello, perché dopo devo uscire. Buona avventura, io vado. No, non vado un po' di 19 volte. Se sali qui, ti troverai un bambino così. non è... non è... non è vero, mi ha giusto il secci. Ragazzi, qui si è resi di versette, io sono un bambino. Eccoci, sei una lespa. ragazzi, mi devo fare un tosto e... facciamo... ragazzi, mi credete che birra invece è birra. Però, secondo me, ci vedono meglio. la webcam me l'ho fatta più pc, non voglio fare... che cazzo è segnale. No, non ci puoi entrare. Ti consiglio, e lancia a fiamma non lo devi proprio usare adesso. Perché? Perché lo scoprirei tra poco. Al termine del video. Adesso vieni con me. Vi ho avuto di farla finita. Può scherci? Ok, attacchiamo, esce la nostra Margaret trasformata in un animale. con braccia, gambe, luca. Vediamo della saliva... saliva zombie. Vuoi un sorso? No. Ma tu stai a DJ? No, adesso la devi attaccare. Se trovi strumenti, munizioni, le devi prendere perché le devi uccidere. Vabbè, l'ho brutta. Vediamo che ha una pancia la... Aspetta. Abbiamo questa pistola quindi possiamo farcela credo perché è molto potente. Questa è una corona quanto magno? Però modificata, sì. Ok, tenta di scappare, tenta di scappare, scivola. Scivola qui, Giz. Ma che strega sei? Ma... Che cos'è? Che cos'è? Mamma mia, ma se fosse l'ultima prima da fare ce l'ha detto. Non ti dicono queste cose. Ah, c'è in su. C'è in su. Sì. Mettete così. Bravo. Che cazzo ci prende? Bravo. Aspetta. No, ancora. No, se l'avevo un ci serve. Un braccio è un pozzato di prima. Ok, sì, bravo. Schivala, schivala. perché se no, stai un buon punto, un buon punto. Ok, si rompi sti cosi, potresti che escono. Mi scato, lì. Hai capito? Non l'hai rotto, però. Non lo so. Vedi bene, vedi? Ah, no, questi sono delle normali, ma so. Dai, mammoniamo, abbiamo queste polla resse. Le polla resse. No, non te calcolare. Dai. perai, di ne spiegare il cuore. No. No, come le devi riuscire, devi sparare, la pancia, non me è pancia. Non si può dire che, vediamo che si mette in un posto, in una posizione. No. No. Ok. No. Ti piace questa boss? Io già. Era meglio Jack Baker? No. C'è spezioso. non mi è andata. Adesso sta? Anche se bestemmiò come un maiale. Un maiale non bestia. Ma che cazzo fa? non c'è via d'uscita, signorino. Non signorino. non ci prova. Fermi... ti curo? Questa volta non mi scappi. Eh, però è rimasto ferito, cazzo. non si può fare. problema. Non è successo, non è successo. Oh, 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 ah, ah, no. Non è sorse, no. Mmh. No. eh, vieni in buono, eh, vieni che l'ugare cazzo ti prenderò scivolata che stai facendo? ginnastica freddo e non muore non upper ok s trovosi però dell'anno ii ok abbiamo del compostibile ce la possiamo fare, ce la possiamo fare sta vomitando ma non è solo vedete se trovi qualcosa, nella porta si apre qui dai c'è bloccata ok, fluido chimico e dei colpi del fucile non l'abbiamo così ok, non si fa niente, forse la MAPS MAPS ma non muore ok ma fa fide che di poi... no, combina, combina medicinale, vieni, la pericolante com'è e' ucciso perchè devi costruire il braio? e' adesso lo prendo cosa c'è un cazzo, ma lo vuoi essere mortale prende le armi, non lo vuoi forza ho finito tutte le armi tutte ho finito tutto ah no, c'è stato questo e' prendere no e' come faccio, non c'è combustibile non c'è 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 ok, abbiamo bloccato queste maledette di api non c'è ma che cazzo dai, già non c'è non c'è non c'è ma non c'è non c'è ma non c'è vabbè ce la facciamo, siamo forti, siamo forti ne basta uno, ne basta uno per cosa per prenderla siamo forti ragazzi però adesso non c'è da stavano una tromba carica e' vabbè esco ok, spero si brucia che cosa? fa uno penso di cesso di cemento ce l'abbiamo fatta morse vince ecco vabbè un po' di animazione e' non rialzarti più stronza ok, abbiamo la lanterna da portare in quella stanza dove c'era la bilancia o una lanterna noi a parole due ragazzi noi terminiamo il video vedremo la prossima volta The Walking Dead forse solo io solo a me vedrete nel prossimo video poi insieme dov'è che ce ne andiamo qua? e devi trovare la porta giù devi scendere giù ragazzi abbiamo salvato abbiamo ucciso anche Margaret dopo Jack Baker vabbè c'è rimasto il figlio e' chi? il figlio di questi due come si chiama? Alonzo Alonzo dobbiamo uccidere Alonzo ma noi lo vedrete al prossimo video al prossimo video non so ci ci sarà Morx ci si ci sarò ragazzi ci sarà o se no ci sarò io ragazzi noi come sempre ci vediamo al prossimo video ci vediamo al prossimo video ragazzi un bacione ai fan allora vabbè ragazzi e al prossimo video ciao ragazzi ciao